Arrivano finalmente le nuove nomine assessoriali nella giunta Piccitto. Si chiude così una crisi di diversi mesi che aveva raggiunto il suo apice con l'abbandono della maggioranza da parte del gruppo Partecipiamo e le dimissioni dell'assessore Salvatore Martorana. Giovedì sera le votazioni tra i pentastellati hanno portato alla nomina di Nella Dische Gianluca Leggio, ufficializzate con la firma del primo cittadino ieri mattina. La scelta è caduta su due consiglieri comunali che manterranno anche il loro incarico all'interno della Civica Sise, visto che la legge lo prevede. Martedì dovrebbero essere assegnate le nuove deleghe e intanto arrivano gli auguri di buon lavoro del presidente del Consiglio Comunale Antonio Tringali. Il sindaco Federico Piccitto ribatta le critiche sulla presunta distanza dal gruppo pentastellato dalla città sottolineando come il lavoro svolto dall'amministrazione sia sotto gli occhi di tutti e sminuendo le polemiche. Reazioni molto critiche arrivano invece dalle opposizioni. Si tratterebbe di un pasticcio bello e buono, secondo gli esponenti del PD, di Mario D'Aste e Mario Chiavola. Anche perché storicamente, sebbene la legge di riferimento lo consenta, c'è sempre stata una netta distinzione tra squadra assessoriale e consiglio comunale. In barba a qualsiasi tipo di rivoluzione annunciata sola a parole, Piccitto è eliminato, dichiara nei consiglieri del PD, quasi tutti gli assessori che erano stati designati con la scelta del curriculum bocciando di fatto un indirizzo che era stato indicato come straordinariamente innovativo. Il capogruppo del Movimento Insieme, Lisa Marino, infine commentando le nuove nomine parla di un modus operandi che nulla ha a di invidiare a quel vecchio modo di fare politica che 5 stelle a parole rifuggono ma che nei fatti applicano. La nostra povera città, conclude Marino, continua a essere guidata dall'improvvisazione, dall'incapacità gestionale e dall'inettitudine politica. Grazie a tutti.